Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti i nostri amici. Una persona spegnita, fatele comunque un applauso che mi ha aiutato tantissimo e se siamo qui oggi grazie anche a lei. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti.